Oggi in Italia ci sono 805.000 ultranovantenni, di questi quasi 600.000 sono donne ultranovantenni, la metà delle quali sono dementi. I letti in RSA in Italia sono 315.000. Fatevi due conti, vista la denatalità, queste donne, sole e dementi possono solo che aumentare. Il rischio di eutanasia è quello che pavento fortissimo, perché è veramente complicato sostenere questi costi e cercare di mantenere queste povere RSA a livello migliore. Il rischio di eutanasia sta già avvenendo praticamente in Italia. Quando vai a pronto soccorso con una donna anziana, come è successo a me in questi giorni, la proposta che ti fanno è fentanil vigilattesa, cioè morfina finché non muore.